Fan di Shadowhunters, attenzione! Preparatevi a vivere delle stravolgenti emozioni e dei cambiamenti. A dirlo è Isaia Mustafa, l'attore che in Shadowhunters 2 interpreta Luke Garroway. Lui ha rilasciato un'intervista recentemente dove ha parlato dell'evoluzione del suo personaggio e di una serie di cambiamenti che avverranno all'interno di questa seconda stagione, quindi dobbiamo prepararci a delle novità. Al momento la figura di Luke è ancora un po' uguale a quella che abbiamo visto nella prima stagione di questa serie TV che tanto ci appassiona. Ebbene, la seconda stagione per Luke sarà sconvolgente, ha detto appunto di Isaia, mentre per tutti i personaggi sarà in generale più cupa e cruda. Isaia ha detto, voglio dare solo un piccolo indizio sul nuovo Luke, scopriremo un lato di Luke che non è stato ancora affrontato dai libri. Luke non sarà più lo stesso, lo vedremo in una luce completamente nuova. Insomma, pare che il bello debba ancora arrivare e una cosa è certa, Isaia Mustafa si candida a ricoprire un altro ruolo importante nel filone Shifai, quello di Luke Cage nel nuovo film prodotto da Netflix. Ora, in verità, lui ha detto, a me basta interpretare un ruolo qualsiasi purché ci sia la possibilità di entrare a far parte del fantastico mondo Marvel. E a questo scopo lui ha pubblicato sul suo profilo social un finto trailer con se stesso nel ruolo di Luke Cage. Capite ragazzo?